buonasera ascoltatori siamo qui per commentare la partita conclusisi poco tempo fa tra roma e parma con risultato di 3 a 0 un'ottima roma veramente in forma smagliante quest'oggi che ha rifilato un secco 3 a 0 gli uomini di riverani venuti qui a roma per poter fare la sua partita e per giocarsela ma sono stati purtroppo sottomessi da un gioco veramente deciso ed esaltante di questa squadra di fonseca che sta facendo grossi progressi in queste prime giornate del campionato la squadra giallorossa si è dimostrata forte in tutti i reparti i gol venuti tutti quanti in primo tempo ad opera di boria bayoralla e gli altri due di mkhitaryan spettacolari veramente tutte e due hanno concluso il primo tempo sul risultato di 3 a 0 nel secondo tempo non c'è stata quasi partita perché comunque il parma ha cercato un pochettino di fare un po posizione altri attacchi da parte di giallorossi ma non è potuta proprio non è stata proprio quasi mai in partita la squadra parmense è un risultato quindi chiaramente giusto a favore della squadra di fonseca che adesso sta al secondo posto della classifica da notare il primo posto detenuto per ora dalla sassuolo è molto clamoroso in attesa del big match di stasera tra napoli milan se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale webstampa24 saluti a tutti